bello a tutti dal prof vedo che siamo già online c'è Davide Gersini che mi domanda subito se è passata la febbre ammazza Davide la febbre che è passata un pezzo eh la settimana scorsa e vabbè era solo era solo il vaccino era solo la quarta dose sono ancora vivo bene poi c'è Valeriana Forani Rella Quili eh Riccardo Antonio dal Brasile Adriana Gheraldo Becciani e c'è anche il canale Giordanus ciao Fra Gabriello eh bella a te e c'è Roslin che fa sempre il suo commento Andrea Gottarelli ciao allora ehm oggi abbiamo un ospite perciò niente appello andiamo direttamente a salutarlo ciao Adriano come stai? Buonasera bella prof grazie sto bene sto bene te lo abbiamo saputo come stai ti sei di peso insomma quindi vabbè insomma io invece ho avuto direttamente il covid a Pasqua ah sì? ah sì vabbè ok quindi hai risolto anche il giorno di Pasqua io non ho potuto farla non so potuto andare alla messa di Pasqua perché c'avevo il covid la sono dovuta vedere allora fino ad adesso funziona tutto adesso il video si è un po' sgranato il tuo però l'audio funziona e questo è quello che conta quindi l'audio va alla grande bene allora ragazzi qui noi questa sera vorremmo parlare con Adriano di una questione che ci sta a cuore perché noi siamo almeno ci proviamo siamo lettori dei Vangeli e lettori della Bibbia e spesso cercando di fare divulgazione eh divulgazione della dell'esegesi divulgazione della cultura religiosa e incappiamo in commenti strani vero Adriano cioè anche tu c'hai una pagina lo ripetiamo insomma che tutti conoscete eh su su Facebook di di gran successo insomma sulla storia del cristianesimo io ho l'impressione non so tu che ne pensi Adriano che siamo tutti un po' legati ancora a una lettura abbastanza infantile della Bibbia e della Sacra Scrittura che ne pensi? Sì perché prevale un approccio letteralista no alla scrittura per cui si tende eh a considerarla quella che si chiama l'infallibilità però l'infallibilità della scrittura viene applicata alla scrittura in quanto lettera non in quanto alla forma della scrittura non tanto cioè non solo al suo contenuto di fede ma anche alla sua forma però diciamo questo è un approccio che fondamentalmente c'è sempre stato un pochino nella nella nel mondo dei credenti però diciamo è notevolmente peggiorato nel con la modernità perché perché ecco perché spiega spieghiamo bene questa cosa Adriano cioè già una conversazione che abbiamo avuto nel dietro le quinte tu mi dici ma mi hai detto ma questa questa lettura che possiamo chiamare in tanti modi no possiamo chiamarla biblicismo letteralismo biblico fondamentalismo biblico non so quale sia il termine più adatto magari me lo ce lo suggerisci tu in realtà non non ha una storia lontana cioè sì sì o no cioè quando nasce questo atteggiamento che noi chiamiamo fondamentalismo biblico allora il fondamentalismo biblico in quanto tale nasce nasce nella seconda metà dell'ottocento in sé perché perché è una reazione nata in ambito presbiteriano soprattutto dopo la dopo la guerra di secessione degli stati Uniti dopo la guerra di secessione americana a partire dal 1878 fino probabilmente a fine secolo si ebbero appunto delle conferenze che conferente di Niagara vengono dette in inglese adesso ti do la la dicitura la dicitura esatta dei Niagara Bible Conferences che sono delle conferenze che vennero vennero organizzate da parte soprattutto della chiesa presbiteriana americana per iniziativa originariamente del Princeton Theological Seminary e che avevano lo scopo di rispondere di rispondere alla al diffondersi appunto di una lettura della Bibbia che veniva considerata di stampo modernista no dai dai sostenitori appunto invece di questa posizione perché perché diciamo ricostruiamo un po' la storia della delle rapidamente la storia delle secessi biblici certo la noi sappiamo che originariamente no i cristiani cioè i vangeli no ma la scrittura in generale eh nasce la Bibbia nasce come un insieme eterogeneo di eh testi di varia origine e vari e vari generi letterari che vengono messi insieme dalla chiesa e e poi appunto vengono considerati come ispirati da Dio e quindi nasce il canone delle scritture mh anticamente diciamo eh già gli autori antichi si erano accorti però che questi testi esprimevano varie teologie tra spesso differenti tra loro che eh a volte si contraddicevano e a volte contraddicevano la conoscenza scientifica soprattutto la conoscenza scientifica greca questo già se ne erano accorti eh gli ebrei con giudeismo ellenistico infatti con filone di Alessandria soprattutto nasce la lettura allegorica della Bibbia praticamente che era già stata applicata dai greci alla loro mitologia no ai miti greci i filosofi greci interpretavano i miti greci appunto che erano appunto contraddicevano le conoscenze scientifiche tra virgolette conseguite in ambito in ambito eh filosofico no dell'antica Grecia e e quindi cosa 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 applicavano per comunque continuare a a dare un senso a questi racconti tendevano ad interpretarli in modo allegorico filone di Alessandria fa la stessa cosa per per la Bibbia no comincia ad interpretare la Bibbia in modo allegorico questo modo questo questo quindi scusa se ti interrompo il problema scienza fede quindi è molto più antico delle polemiche già c'era nell'antichità e già nell'antichità eh si 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 era riflettuto e si erano ehm elaborate delle soluzioni a questo problema eh però diciamo non la lettura della della allegorica della Bibbia non veniva considerata comunque qualcosa di di estraneo o qualcosa di naif di strano cioè veniva esercitata e basta veniva fatta e basta perché per gli antichi non anche il fatto che per esempio ecco i quattro Vangeli si contraddicessero tra di loro per la Chiesa Antica perché alle volte oggettivamente si contraddicono nella lettera no nei particolari abbiamo sempre detto tante volte che nei particolari eh a volte i Vangeli si contraddicono no basta leggere le due generogie quella di Matteo e quella di Luca si contraddicono no sono completamente diverse no e e poi e tanti su tanti altri piccoli punti si contraddicono però per gli antichi questo non era un grosso problema perché appunto loro sapevano che eh conoscevano il genere letterario dei Vangeli e quindi non per loro non era un problema se e quanto veniva riportato nei Vangeli non era poi così storicamente esatto curato ehm fino al dettaglio diciamo perché per loro appunto eh la verità la verità non con non coincideva con l'esattezza del dato anzi eh per nel mondo antico spesso il narratore ma anche lo storico anche lo storico perché è famoso è per esempio l'osservazione che fa Pucitide nella guerra del Peloponneso quando dice che i famosi discorsi che lui mette in bocca a Pericle se li ha inventati lui cioè che Pericle ci sono appunto all'inizio della guerra del Peloponneso no nei primi libri questi famosi discorsi che fa Pericle no famosissimi no per chi per chi ha studiato letteratura eh classica a a scuola a liceo no all'università tutti gli storici fanno un po' di fiction sì perché per loro lui lui dice no cioè per loro l'importante non era riportare l'esattezza del dato cioè quello che effettivamente Pericle aveva detto o aveva fatto un personaggio storico no ehm l'importante era mh trasmettere l'immagine un'immagine eh diciamo eh realistica mh secondo l'interpretazione che le che il l'autore dava di un personaggio eh e quindi mettendo in bocca a questo personaggio dei discorsi che sarebbero stati quelli che appunto il personaggio si immaginava in base appunto all'idea che se ne aveva avrebbe pronunciato in quella specifica circostanza o si facevano cose si fanno compiere delle azioni no si creano degli aneddoti per eh appunto trasmettere l'idea di come il un determinato personaggio si sarebbe comportato in una determinata situazione questo per loro per gli attori antichi non era un problema ovviamente eh questo non è che significa che si facessero andare giù tutto no cioè nel senso il non era un problema l'esattezza ma eh non è che eh si si pensava insomma soprattutto nel genere storiografico ma anche nel genere biografico che 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 cioè si si inventava tutto cioè c'era un fondo di verità che era la figura cioè l'immagine che si voleva trasmettere e spesso si sacrificava l'esattezza del dato per trasmettere proprio quell'immagine ovviamente eh quando il cristianesimo comincia a diffondersi in un gruppo in una popolazione però che non è fatta di letterati no ma si diffonde nel popolo sorge nel popolo cristiano il problema delle contraddizioni dei Vangeli tant'è vero che già nel secondo secolo abbiamo con Taziano no il diatass di Atessano di Taziano la prima ormonizzazione dei Vangeli cioè diatessano piglia i quattro Vangeli canonici e ne fa una sorta di 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 spezzatino no dice e tira fuori un'armonia un unico racconto in cui armonizza tutti i racconti evangelici e e questo 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 problema si acuisce a mio avviso quando poi a un certo punto subentra l'idea della teologia come scienza come scienza intesa in senso greco cioè come scienza deduttiva rigorosa per cui la a quel punto si comincia a pensare la sacra scrittura no come funziona come funziona la scienza deduttiva c'è una serie di assiomi no di proposizioni fondamentali da cui si deducono tutte le proposizioni si dimostrano tutte le proposizioni che poi appartengono al corpus della scienza stessa no così si pensa cominciando a pensare alla teologia come una scienza sviluppata in modo deduttivo si 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 comincia a pensare alle affermazioni che compaiono nella bibbia come gli assiomi cioè come le proposizioni fondamentali di questa scienza di conseguenza a quel punto chi ha studiato logica non lo sa un sistema assiomatico non si può contraddire no se no viene giù tutta viene giù tutta la scienza quindi comincia a nascere il problema delle contraddizioni che ci sono dei vangeli che vengono risprede più questo è presentissimo ad esempio in in agostino no che tanto è vero che agostino scrive un libro un'opera che è l'armonia dei vangeli in cui armonizza cerca di armonizzare i racconti evangelici perché per lui appunto era diventato un problema però se tu vai a leggere poi come agostino le soluzioni che agostino trovano al problema dell'armonizzazione dei vangeli spesso per un critico moderno sarebbero inaccettabili perché comunque lui stesso si concede una certa elasticità perché ancora per lui comunque non c'era ancora questa idea del dato vero come esatto quindi poi e poi c'è da considerare che in parte in parte questo questa problematica viene risolta perché nella nella letteratura patristica si sviluppano l'idea dei quattro sensi della scrittura no c'è il senso letterale e poi tre sensi spirituali che sono il senso anagogico no il senso morale e il senso allegorico no i tre sensi spirituali della scrittura quindi dove la scrittura da un punto di vista letterale crea dei problemi allora ecco che in realtà crea quei problemi perché in realtà vuole trasmettere un altro un altro concetto no torna no l'idea che già c'era filone no di una lettura allegorica della bibbia solo che appunto nel pensiero patristico questa si 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 complica ancora di più no si arricchisce anche di altri due sensi appunto quello morale e quell'anagogico poi però con la riforma protestante le cose cambiano perché con la riforma protestante si torna al senso letterale della bibbia cioè i protestanti rifiutano la gli altri tre la lettura spirituale della bibbia no c'è così come era stata praticata all'interno della tradizione soprattutto dell'occidentale no della chiesa della chiesa latina e quindi tornano al se siccome appunto nasce il principio della sola scrittura quel il il senso vero della 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 scrittura il senso letterale quindi diciamo e quindi poi ritorna ritorna prepotentemente il problema di prima no c'è il problema di tornare a riarmonizzare tra di loro la scritta anche se san tommaso quando parla dei sensi della scrittura dice che comunque il senso letterale è quello privilegiato fondamentale per la teologia parte da lì si si quello lì si intende per senso letterale perché spesso per senso letterale si intende così come è scritto il testo e come suona io credo che forse li guivo così anche lì eh si no ma poi per san tommaso cioè per san tommaso è ovvio che lui spesso lui stesso adesso non ricordo mai in quale questione no lui ad esempio cioè una cosa semplicissima questa l'aveva notato anche già sa cont'agostino no che per esempio se tu leggi il racconto della genesi il racconto della genesi ci descrive una cosmologia no con l'idea del cielo come firmamentum come 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 una sorta di cubola che sta sopra sopra la terra no che era in contraddizione con la scienza greca no e il filo i teologi cristiani non hanno problemi ad acquisire la scienza greca con l'idea dei 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 cieli mobili no dei 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 cieli mobili quindi poi anche eh con con lo pseudo di nici anche del delle gerarchie angeliche e degli delle delle potenze angeliche no che stanno dietro al moto degli astri eccetera eccetera no non c'è questo problema no eppure qui c'è una contrappia per loro non è non era un problema perché per loro non il racconto di genesi non si aspettavano che fosse scientificamente esatto tant'è vero che lo stesso santommaso a un certo punto dice che lui accetta il sistema tolonaico quindi c'è l'idea della centralità della della terra no nel nell'universo perché a suo a suo avviso all'epoca era appunto il 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 sistema scientificamente più valido però lui stesso dice qualora venisse eh avanzato eh un sistema cioè l'avanzato un un oggi diremmo un modello di universo eh migliore cioè più preciso in in grado di fare predizioni più precise anche se poi Tommaso non la mette esattamente in questi termini dice io sarei pronto a rinunciare al sistema tolomaico e a e abbracciare questo nuovo sistema invece con 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 l'avvento della della riforma eh diciamo questo tipo di 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 ragionamento viene viene meno in un certo senso perché poi non diciamo questa è la grande contraddizione no del mondo se vogliamo del mondo protestante perché se da una parte eh il protestantesimo ehm appunto tornando eh alla l'esclusività del senso letterale della scrittura diciamo pone le basi di quello che poi sarà il fondamentalismo biblico d'altro canto pone anche le basi di quello che sarà la lettura storico critica della Bibbia no che è il perfetto contrario perché allora diciamo sì la grande rivoluzione è l'avvento della lettura storico critica cioè questa che cambia un po' decisamente le carte in tavola cioè tutto quello abbiamo detto prepara l'avvento di questo modo nuovo di leggere la scrittura ecco quando comincia che nasce proprio in in tra i protestanti no nell'ottocento no con Bellhausen no che che propone la la teoria documentaria quindi c'è propone c'è l'idea che eh il pentate il pentateco non nasce come opera singola no no come un'opera di getto fatta da un unico autore no tutta insieme no come si pensava come era tramandato no come scritto nello stesso Deuteronomio no come Mosè come autore no di tutto il pentateco ma comincia a pensare invece al pentateco come una collezione di testi e poi eh di fonti no di documenti diceva lui che poi per eh poi con documento G il documento E il documento P il documento D no che poi alla fine vengono messi insieme no verso appunto il quinto secolo avanti Cristo no e e si crea poi il pentateuco no e poi c'è Gunkel no che tra la fine dell'ottocento e prime del novecento eh fonda la cosiddetta storia delle forme no per cui va ad individuare tutti i vari generi letterari no ed evidenzia no la differenza tra i tra i vari generi letterari che ci sono per esempio in Genesi no eh che esprimono appunto ehm lui dice che sono espressione appunto di contesti vitali differenti no nasce questa idea che ogni che ogni testo è l'espressione di un contesto specifico no di un di un contesto vitale no di un specifico no per cui va interpretato in funzione del contesto vitale in cui è nato no ovviamente questo è tutto questo in ambito protestante perché proprio l'attenzione alla scrittura no come testo e mh e la lettura che che vuole essere scientifica di questo testo genera tutti questi questi modi questo modo nuovo di leggere la scrittura no che eh che se vogliamo è è letteralista no tra virgolette perché vuole capire qual era il senso della scrittura lì dove quando è nata lì dove è nata quindi in un certo senso è letteralista anche questo no quindi tu mi stai dicendo anzi è veramente letteralista certo mi stai dicendo che quindi in ambito soprattutto anglosassone nasce la lettura scientifica poi definiremo storico critica della della in ambito tedesco più che altro in ambito germanico sì comunque diciamo nel nord Europa legato alla riforma e a tutte le sue ramificazioni giusto quindi è lì che comincia a fermarsi però sempre nello stesso ambiente nasce una reazione a questa a questo nuovo modo di leggere perché si percepisce questo modo scientifico di leggere la scrittura come una minaccia per la fede per esempio mi viene da dire no la teoria documentaria dice beh signori qui non so chi è stato il primo a dirlo non so se è stato re ma qui mosei non ha scritto il pentateuco esatto bene non è stato mosè e qui abbiamo a che fare con una serie di scribi che hanno collezionato insieme bene dei testi che poi hanno preso la forma del pentateuco cioè un'affermazione del genere per un diciamo uno che legge la bibbia in maniera più tradizionale tradizionista chiamolo come vuoi può essere un'affermazione scandalosa sì è successo questo per esempio dico questo è un caso sì perché perché in buona fede in buona fede si pensa si si pensa che la rivelazione è un qualcosa che deve essere abbordabile cioè deve essere comprensibile per tutti no anche per i semplici per cui loro c'è l'idea che fanno i che cominciano a sviluppare appunto i cosiddetti fondamentalisti fondamentalisti no è che queste letture scientifiche della bibbia del testo sacro sono letture che però possono essere affrontate solamente da eruditi no cioè si introduce l'erudizione nella lettura della bibbia mentre con la teoria del libro esame perché sempre qui siamo no cioè allora dove va a finire la teoria del libro esame se io per approcciarmi alla bibbia devo essere un erudito allora non tutti sono in grado di comprenderla non c'è più il libro esame della scrittura no cioè praticamente la diciamo la cultura teologica protestante definiamolo così semplifichiamo no che cercava di far fuori i preti cioè di far fuori diciamo il va bene la lettura mediata dal clero ok quindi di riconsegnare la bibbia alle persone semplici che la potevano leggere liberamente si ritrovano col problema di avere di mezzo un nuovo clero cioè quello degli studiosi eruditi che tu insomma ti dice uno senti un po tu per capire veramente la bibbia devi studiare ebraico per esempio no devi cominciare a fare tutto il percorso accademico e quindi questo privava i lettori più semplici dell'approccio alla bibbia ti dico ti dico questo perché questo è un problema che ho anch'io nei commenti dei miei video no quando mi dicono però queste cose la bibbia siamo capaci di leggerla anche noi quindi stai dicendo delle sciocchezze ho capito però se tu legge non capisce una ceppa a poco ti serve leggere si la bibbia anche tu ma non ci hai capito una ceppa semplicemente la leggi senza gli strumenti adeguati ma poi la leggi cioè la leggi perché qualcuno te l'ha tradotta quindi già comunque tu non leggi la bibbia leggi una traduzione no cioè sempre così c'è sempre un medium no per cui c'è però appunto mentre da una parte del mondo protestante questo non è un problema da un'altra parte del mondo protestante più rigido diciamo no più rigidamente attaccato appunto ai fondamentalsi fondamenti della fede protestante diventa un problema perché ci sono i famosi cinque fondamenti però adesso voglio difendere poi gli amici protestanti nel senso che guarda che fino a metà del novecento bene si litigava nelle facoltà pontifice perché c'era ancora chi affermava che Mosè aveva scritto il Pentateuco eh beh fino al 1906 se non ricordo male la la pontificia commissione biblica disse che bisognava affermare che che Mosè era l'autore finale del del Pentateuco cioè c'è proprio un pronunciamento ufficiale no no ma in realtà poi bizzarramente la chiesa cattolica ha fatto molto più fatica ad accettare la lettura storico perché però perché lì faceva da filtro la lettura faceva da filtro la lettura dei padri della chiesa secoli e secoli di eh di esegesi patristiche poi medievale che avevano interpretato la Bibbia in un certo modo arriva la lettura la lettura storico critica e sfascia il giocattolo e allora c'era esistenza perché significava dover non dico rifiutare ma riformulare una traduzione esegetica una tradizione esegetica e non era una cosa che è una fatica che stiamo facendo ancora adesso eh esatto ancora adesso considerando che il il metodo storico critico di lettura delle scritture nel in ambito cattolico è stato sdoganato da Pio undicesimo con la Divino Afflante Spirito che è del 43 cioè il 43 cioè e poi viene poi eh diciamo certificata dal dal concilio Vaticano II quindi c'è eh rispetto a secoli e secoli e secoli e secoli di esegesi condotte in un certo modo eh ovviamente eh digerire il metodo storico critico e riuscirlo riuscire ad armonizzare i dati che emergono dal metodo storico critico dalla lettura attraverso il metodo storico critico della Bibbia con una tradizione esegetica millenaria oggettivamente e non è facile ci vuole tempo per digerire e per armonizzare. Allora torniamo certo torniamo un attimo alla storia delle esegesi come la stavamo raccontando cioè siamo arrivati in ottocento semplificando bene che si divide in due parti tiriamo fuori per il momento la Chiesa Cattolica arriva un po' dopo no? Ma diciamo eh il mondo anglosassone tedesco insomma quello sotto l'influsso protestante nelle sue varie manifestazioni ehm inventa in vero cioè questo è un grande contributo trova insomma l'approccio scientifico che noi definiamo storico critico all'esegesi e crea nello stesso tempo al suo interno una forte reazione. Questa forte reazione la chiamiamo è fondamentalismo. In America perché? Perché ecco perché negli Stati Uniti? Perché negli Stati Uniti era il periodo del famoso cioè del famoso revival no? Cioè del revival religioso quindi della nascita del cosiddetto terzo protestantesimo no? Che appunto è un mondo che nasce dal popolo nasce da tanti profeti e non no? Che anche semplici pastori che però non hanno una formazione spesso accademica per cui creano delle nuove interpretazioni del del cristianesimo no? Dei dei modi nuovi diciamo di vivere il cristianesimo a partire dalla Kings James Version così come ce l'avevano loro no? Dalla versione di Re Giacomo con quella traduzione letta come un testo baso letta la lettera no? E questo appunto cioè in base al principio precedente cioè che dicevamo prima questo appunto perché? Perché l'idea di fondo è che che la Bibbia deve essere esaminata da ogni credente personalmente no? Liberamente e quindi deve essere comprensibile a tutti non ci deve essere un filtro di erudizione tra il credente e il testo sacro no? E quindi diciamo c'è in realtà c'è non è che cioè il sono in buona fede quelli che propongono questo tipo di 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 approccio no? Perché vogliono salvare appunto un una lettura democratica no? Della Bibbia in un certo senso tutti sono in grado di interpretare la Bibbia il problema qual è? il problema è che non si distingue non si distingue la forma dal contenuto perché è vero che il messaggio della Bibbia lo possono comprendere tutti no? Il Vangelo lo possono comprendere tutti ma il Vangelo è diciamo il messaggio che sta dentro la Bibbia e la forma è la scrittura sono i vari testi che che trasmettono questo messaggio e quel problema invece che si 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 c'è una sovrapposizione tra queste due realtà e allora si dice che la Bibbia è inerrante quindi tutto quello che dice la Bibbia anche quando si occupa di storia e geografia è vero perché perché è parola di Dio e quindi Dio non può mentire e quindi quando quando la Bibbia dice che l'universo è stato creato il mondo è stato creato in sei giorni allora il mondo è stato creato in sei giorni e se la scienza dice diversamente la scienza si sbaglia gli scienziati sbagliano il dibattito sull'evoluzionismo nasce in questo contesto tra l'altro questo mi fa riflettere perché anche il dibattito sull'ateismo moderno diciamo che l'ateismo rampante quello aggressivo l'ateismo evangelico diciamo così si fa strada proprio nello stesso ambiente perché nasce a sua volta con una reazione contro un atteggiamento religioso assolutamente irrazionale allora facciamo ti faccio un esempio noi l'altra volta abbiamo parlato dei miticisti no esempio i miticisti sono quei miticisti sono se tu vai a vedere c'è un bel libro di Maurice Casey che ha scritto proprio contro il miticismo e nel primo capitolo lui fa notare questa cosa se tu vai a leggere il curriculum di tutti gli autori miticisti moderni cioè i miticisti sono quelli che ascheriscono che Gesù non è una figura quella di Gesù una figura storica Gesù non è mai esistito se tu vai a vedere e leggi il curriculum di tutta questa getta è tutta getta che che è nata e cresciuta in ambienti fondamentalisti biblici e allora cosa succede succede che loro sono stati educati che la bibbia è inerrante fino all'ultima virgola nel momento in cui invece magari perché hanno letto magari perché hanno fatto studi scientifici no perché hanno letto studi classici allora scoprono che in realtà ci sono delle 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 acquisizioni della scienza che può essere la scienza fisica che può essere la scienza biologica ma che può essere anche la critica testuale come nel caso di Herman Herman ha perso la fede quando si è cominciato a interessare professionalmente di critica testuale della bibbia no cioè nel momento in cui tu scopri che la bibbia entra in contraddizione no formale formale perché questo è il problema in contraddizione formale con 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 alcune acquisizioni le tue convinzioni sono provate no ma poi acquisizioni scientifiche provate scientificamente quindi attestate corroborate scientificamente allora te casca tutto allora se la bibbia è inerrante nel momento in cui c'è un errore allora tutta la bibbia è sbagliata no tra l'altro tu sei adriano un castello di carte che viene giù sei una persona erudita quindi fai questo questa osservazione riferendoti a molti autori che si sono occupati di questo però che sono meno erudito che bazzi con youtube che mi sono fatto una cultura su questo video su youtube come forse la maggior parte di noi e ti posso confermare che molti diciamo youtuber atei no soprattutto nel mondo sempre anglosassone americano hanno una storia di questo tipo spesso si tratta di non so di ex testimoni di geova ex evangelici di varie forme però insomma legate proprio a questi ambienti fondamentalisti dove a scuola insegnano ma scuola intendo a volte anche l'università qui c'è qualche commento che già lo mette in evidenza che ti insegnano che il mondo ha 6.000 anni e quindi molti di questi raccontano sì però io quando sono andato all'università e per la prima volta in vita mia ho fatto un corso di astronomia e ho scoperto che il mondo era 13 miliardi e mezzo di anni non solo ma che si poteva provare perché io stesso con un telescopio potevo mettere lì e fare i calcoli e provarlo allora mi è cascato tutto e questo è esatto il problema è perché non si non si distingue la forma dal contenuto no quello che invece quello che invece specifica la dei verbum no la dei verbum dice che la bibbia è diciamo per usare un termine che usano infallibile no è veritiera però lì dove espone dei dati di fede e di morale non dove espone dati scientifici o storici lì non c'è non necessariamente deve perché 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 cioè a te cioè io l'esempio che faccio sempre a te ai fini della tua salvezza no che il mondo sia stato creato in sei giorni ossia che è stato che abbia miliardi di anni di sei miliardi di anni di vita che te cambia qual è la differenza no anzi a me anzi a me l'idea che questo la vastità dell'universo sia nel tempo che nello spazio mi mette in soggezione anzi mi mette mi mette mi mette al cospetto della grandezza di dio no cioè come come umile canna al vento no cioè e lo so però vedi devi avere elaborato una certa formazione una certa formazione di pensiero cioè una formazione diversa e tra l'altro tu vieni da una tu hai fatto la strada opposta no quindi tu esatto io vengo proprio da io ero storico delle regioni quindi cioè non solo cioè io ero abituato a studiare i testi biblici appunto esclusivamente come 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 prodotti umani no e quindi c'è ad applicare esclusivamente il senso della lettura storico critica quindi cioè per me non è stato un problema quello invece mi rendo conto che per molti è quello è un problema però il problema qual è ci dice appunto il documento della pontificia commissione biblica l'interpretazione della bibbia nella chiesa ci dice che la lettura letteralista della bibbia fondamentalista della bibbia fermandosi al testo così com'è lo tradisce ne tradisce proprio la lettera perché non si interroga sul contesto che ha prodotto quel testo ma esatto cioè il problema dei letteralisti è che in realtà non leggono la lettera leggono come suona come suona al primo ascolto credo non leggono la lei perché se tu devi comprendere veramente la lettera devi comprendere ciò che l'autore intendeva dire che poi era appunto sullo stesso principio no della della del senso letteralista della bibbia che aveva animato i fondatori del metodo storico critico solo che quello è un modo diciamo corretto di approcciarsi alla lettera e quindi fare una lettura letteralista tra virgolette della bibbia mentre c'è un modo scorretto che appunto è giustificato da quanto dicevamo prima no dall'idea appunto che tutti devono poter accedere alla scrittura no che che appunto è quello dei fondamentalisti biblici che ritengono la bibbia perfetta infallibile sotto ogni punto di vista mentre che la bibbia deve essere perfetta infallibile dal punto di vista della fede no fondamentalmente ma lo spettacolo diciamo più deprimente vedere queste persone che si arrampicano sugli specchi per cercare di mettere insieme la bibbia come la intendono loro con le conoscenze scientifiche quello che si va concordismo no concordismo una cosa terrificante senti se tu sei d'accordo non so se volevi fare una sintesi su questo insomma cioè questo fondamentalismo insomma nasce quindi a metà dell'ottocento fondamentalismo intendo fondamento poi si concretizza nei fundamentals no che sono questi dodici obuscoli che vengono pubblicati se non ricordo male tra il 1912 e il 1915 che tracciano appunto i fondamenti di questo modo di vivere il cristianesimo fondamentalmente perché alcuni sono alcuni sono condivisibilissimi cioè tipo la concezione virginale di Gesù no è condivisibilissima no la realtà dei miracoli di Gesù la risurrezione fisica di Gesù no la divinità di Gesù ok ci stavo il problema è il primo dei fundamentals che è appunto l'idea che la bibbia sia infallibile nella sua forma e non semplicemente nel suo contenuto quindi si rifiuta si rifiuta è una forma di docetismo diceva dice il grande J.E. Morris si rifiuta di riconosce la natura umana del testo biblico l'incarnazione in fondo è una forma è una forma di rifiuto dell'incarnazione cioè l'idea che il logos divino cioè quindi che la rivelazione sia storicamente incarnata e quindi che anche la parola di dio risenta risenta dell'ambiente in cui è stata pronunciata no quindi anche dell'aspetto umano perché è quello che invece chiarisce la De Verbum è che la Bibbia è sì parola di dio ma è anche parola dell'uomo e che gli autori biblici a differenza di quello che pensano i fondamentalisti che erano degli stenografi che scrivevano quello che Dio dettava invece noi li consideriamo attori ispirati cioè che significa che hanno scritto quello che Dio gli ispirava ma appunto come persone della propria epoca quindi influenzati da quelli che erano i pregiudizi della propria epoca dalla dalla teologia della propria epoca e dai generi letterari che si usavano nella propria epoca no? No ma per capire Dio devi capire l'uomo. Per capire un messaggio che è metastorico però in questo messaggio metastorico si è incarnato nella storia. Allora diamo un po' spazio alle domande innanzitutto ci becchiamo un complimento Oriana interessantissima lezione grazie grazie Oriana becchiamoci i complimenti siccome ne prendiamo pochi ogni tanto ci tiriamo uso. Allora dunque vediamo un po' c'è a scienzina che dice più che una domanda è una triste osservazione esiste un fondamentabilismo biblico anche in alcuni ambienti cattolici movimenti e spesso ancora nel catechismo ai ragazzi viene insegnata in questo modo che ne pensi Adriano ti risulta? Non lo so se il catechismo è ovvio perché il catechismo ovviamente per i bambini non è fatto sempre da persone molto preparate. No a parte quei catechisti spesso non sono molto. Catechisti io tutti quelli che ho avuto sono stati bravissimi cioè tutti quelli che ho conosciuto con cui lavoravo sono stati brevissimi però ogni tanto può capitare di incappare. No le volte non sono. Però bisogna dire che ultimamente si è fatto un grande sono fatti grandi passi avanti io so che una delle scuole di formazione. Sono ormai scuole di formazione poi in genere nelle parrocchie si fa grande attenzione a questo. Però sai al bambino. Puoi sempre incappare insomma nel catechista più. Sì no ma poi cioè tu a un bambino non che gli puoi spiegare la teoria documentaria. È ovvio che al bambino come gli racconti le favole in un certo senso no? Gli spieghi no? La 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 le dottrine in modo semplice non è che stai lì però appunto il tema è che purtroppo i cristiani si fermano al catechismo cioè pensano che si fermano al catechismo di bambini più che al catechismo. I bambini alla prima comunione no? E pensano cioè che quella e lì hanno finito invece invece in teoria no? Uno dovrebbe continuare a formarsi tutta la vita no? Cioè ad approfondire la propria fede tutta la vita. Il problema invece è che spesso moltissimi cattolici eh hanno letto cioè sono andati a catechismo per fare la prima comunione e lì si sono fermati e quindi non hanno non hanno una formazione poi adeguata no? Ah per nutrire poi eh la propria fede eh in modo appunto più profondo no? E quindi poi è ovvio che se tu c'hai una fede che è fondata su una lettura diciamo letteralista della Bibbia se io ti dico come diciamo l'altra volta no? Che gli storici ci dicono che Gesù forse forse non ha mai predetto la propria la propria morte la propria esurrezione diciamo allora Gesù non era Dio no? no non è così allora se ti prendiamo avanti allora c'è Stefano Delanna che ci mette a corrette più che domande sono osservazioni tristi su TC che è una televisione evangelico network mondiale che in Italia è a Malnate canale 262 nel digitale facendo pubblicità involontariamente tutti i giorni ma non dalla trasmissione creazionismo nel ventesimo secolo eh lo so purtroppo sono cose brutte Stefano è un mio amico eh lo saluto Senti Aldo invece solleva una questione ma non è vero allora che il Vangelo posso leggere e comprendere tutti? Sì perché il messaggio contenuto del Vangelo può essere compreso da tutti il problema è che siamo sempre lì non bisogna confondere il senso del Vangelo con i dettagli dei Vangeli come testi letterali poi ovviamente per noi cattolici è ovvio che poi il Vangelo va sempre compreso attraverso la mediazione dell'interpretazione della Chiesa no? Cioè quindi è ovvio che eh in teoria dovrebbe essere il catechista a spiegarti come stanno le cose no? O il sacerdote a spiegarti come stanno le cose no? Diciamo che per i cattolici è un po' più facile perché sì prendono in considerazione la mediazione della tradizione cioè quindi e del magistero no? Nel momento in cui il magistero accetta la lettura storico-chirica della Bibbia dovrebbe essere compito di chi questo magistero ha il compito di trasmetterlo al popolo cristiano poi faglielo capire insomma no? Comunque credo che oggi... come diceva come diceva come diceva Sant'Omaso d'Aquino cioè eh una vecchina può avere una comprensione no? In letterata è analfabeta può avere una comprensione del del Vangelo molto più 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 profonda di quella di 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 un'aula piena di di laureati in teologia ma perché perché ne comprende il senso ma il senso del Vangelo non sta nell'esattezza dei dati storici no? ho capito, però quando tu ti metti a discutere sul significato di una parabola, di una pagina del Vangelo, di una pagina della scrittura e ti metti a discutere su quello e ti metti a leggere, non so appunto adesso tra gli abbonati stiamo leggendo i primi capitoli di Genesi cioè i primi capitoli di Genesi se ti fai a leggere anche l'esegesi diciamo divulgativa noi stiamo leggendo qui Federico Giuntoli è una bella divulgazione però se tu diciamo certe cose non le sai o non le hai mai sapute può essere scioccante può essere scioccante ti feriscono e quindi c'è credo che però questo sia necessario cioè questa fase diciamo se vuoi un pochino più dolorosa per i credenti cioè di crescita proprio anche intellettuale ma che poi è anche una crescita morale insomma crescita di cristiani consapevoli passa anche proprio se uno vuole rimpossessarsi della scrittura però non lo deve fare in maniera ingenua in maniera diciamo nello stile del fondamentalismo biblico americano perché quello è veramente pessimo ragazzi in realtà ci sono delle ottime edizioni della Bibbia anche cattoliche ci sono canali come il tuo insomma dove uno volendo si può formare basta che tu prendi la Bibbia di Gerusalemme no? quella adesso attualmente in commercio e ti leggi le introduzioni le note esegetiche già tante brutte idee te le toglie insomma no? basta quello il problema è che e manco quello si fa spesso perché perché purtroppo nel mondo cattolico manca la cultura biblica c'è una forte devozione spesso no? una grande devozione verso le pratiche della fede che cosa buona e giusta e ottima però che non è nutrita da un ascolto non è nutrita dalla parola di Dio spesso e volentieri e questo è un grande problema Ariela ci chiede se i padri pellegrini c'entrano qualcosa qua si parla erano puritani no? quello è veneto cioè i padri pellegrini ovviamente erano puritani quindi avevano un approccio abbastanza rigido alla scrittura però qui parliamo di un periodo successivo successivo al grande revival quindi alla nascita del terzo protestantesimo che c'ha proprio un approccio qui parliamo di una cosa ancora più recente cioè siamo quindi fine ottocento primi novecento cioè quindi fondamentals vengono scritti tra il dodici e il quindici quindi il fondamentalismo in senso stretto nasce proprio alla vigilia della prima guerra mondiale quindi meno di cento anni ormai cento anni fa in questo modo e poi prende piede prende piede negli anni successivi nella Bible Belt eccetera eccetera americana e poi nel Sud America dove appunto i movimenti in più forte espansione i cristiani in più forte espansione sono quelli letteralisti però il letteralismo c'ha dalla sua parte il fatto che dà un messaggio semplice quello è il problema dà un messaggio semplice tu ti chiudi nel tuo boss nella tua fortezza c'è un messaggio semplice la Bibbia è sempre infallibile eccetera eccetera io leggo quello che c'è scritto a sto punto così quindi diciamo in parte il suo successo deriva da questo però è anche il suo grosso limite altrettanto no? purtroppo Tom ci invita a non sottovalutare l'ignoranza del mondo di parte del mondo protestante americano evangelico americano sono livelli per noi inimmaginabili è vero cioè questo sì purtroppo ci sono diciamo un analfabetismo quello che si chiama un analfabetismo funzionale no? questo sì spesso sono persone che 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 hanno letto solo cioè un po' come i sunniti che alle volte no? alcuni alcuni musulmani che si vantano che nella loro vita hanno letto solo un libro cioè il Corano no? ci sono alcuni che si vantano che nella loro vita hanno letto solo la Bibbia no? eh però questo ovviamente poi diventa poi un limite no? cioè perché da nessuna parte che la Bibbia è parola del Dio ma da nessuna parte c'è scritto che devi leggere solo quella comunque non dobbiamo però neanche sottovalutare diciamo anche perché sia il mondo protestante che il mondo cattolico il mondo cristiano in generale è molto variegato è molto complesso quindi ci sono tante realtà tante diverse esperienze e non c'è dubbio che noi per esempio abbiamo di riflesso con la scoperta delle scritture in alcuni movimenti anche in buona fede per riaccostarsi al concilio tendenze che vanno verso vanno verso il fondamentalismo anche se non apertamente insomma e questo e questo sì perché perché ovviamente se tu puoi scoprire scritture no? e vuoi vuoi comunque eh cioè ricostruire un cammino cristiano nutrito dalla scrittura ma poi a catechitizzare i gruppi ci metti gente che non c'ha studi biblici adeguati a spalle no? e che dice castronerie è ovvio che poi e sì nutri la tua fede con la scrittura però con una scrittura che a quel punto non è più letta così come la chiesa la legge e poi questo diventa problematico in un'ottica cattolica no? Arbin evoca Arbin qui evoca l'innominato un certo professore dice interpretare letteralmente la Bibbia e poi dice ad esempio che il serpente della Genesi era un ingegnere genetico quella è una forma di fondamentalismo quella è una forma di fondamentalismo ne parlavamo proprio prima di connetterci con il prof quella è una forma di fondamentalismo perché l'innominabile e l'innominato è più fondamentalista dei fondamentalisti perché lui legge la Bibbia la lettera poi però va a scavare nell'etimologia dei termini per spacciare una lettura letterale della Bibbia del testo biblico scava nelle etimologie dei termini per far dire alla Bibbia quello che lui vuole fargli dire in base a quella che è una sua precomprensione facciamo finta che lui dice però appunto è un modo ancora più fondamentalista se vogliamo dei fondamentalisti biblici perché basta che tu hai fatto un qualsiasi corso di introduzione alla saga scrittura anche in un SSR o una scuola di formazione teologica per laici che automaticamente come tu apri un libro del professore su un menzionato alla terza pagina ti metti a ride cioè chiudi e lo butti nel cestino purtroppo questo tipo di lettura invece fa molti proseliti perché c'è un'ignoranza biblica colossale e questa è la ragione fondamentale del successo di certi personaggi sia di lui che di altri chiamate la neuro credo un nickname scelto a caso c'è anche da dire che il fondamentalismo il complottismo e in generale il difendere la propria visione anche quando viene negata cioè viene appunto disconfermata cioè un espressione un neologismo interessante cioè quando viene appunto disprovata e anche un meccanismo di difesa psicologico però questo credo che avvenga soprattutto su internet che uno quando prende una posizione vuole difenderla a tutti i costi beh anche perché poi nel confronto subentra quello che gli psicologi chiamano il processo di estremizzazione no cioè quando tu ti trovi poi a difendere in un dibattito in un confronto una posizione spesso finisci il confronto su posizioni che sono molto più radicali rispetto a quelle che assumiva all'inizio del confronto stesso questo è proprio un processo psicologico perché fa parte di un sistema di difesa fondamentalmente perché poi ognuno di noi c'ha dei parametri fondamentali in base in base ai quali interpreta la realtà è ovvio che se io ti metto in discussione uno dei pilastri nella tua interpretazione del mondo è ovvio che ti metti in crisi no e ti pongo al di fuori della tua zona di confort psicologico è ovvio che poi scattano tutti i meccanismi mondiali dell'universo per riposizioni posizionarti nella tua zona di confort allora c'è qui il mio amico Vittorio Secco che saluto grazie Vittorio per esserti collegato lui dice giustamente il fenomeno è trasversale alle confessioni ma da protestante posso dire che il problema principale è proprio la formazione dei pastori pastori anziani presbite nella semplificazione fino a deformare il sola scrittura perché bisogna dire effettivamente che il sola scrittura come lo intendeva l'Utero se oggi lo vedesse attuato insomma in alcune infatti dicevamo chi non ridirebbe insomma dicevamo che il discorso che facevo io è che proprio invece il fondamentalismo è una degenerazione del concetto di sola perché proprio invece l'amore e l'intenzione di comprendere il senso letterale della Bibbia ha prodotto invece proprio il metodo storico critico come prodotto buono come frutto buono tant'è vero che poi questo frutto buono del protestantesimo che è un frutto del protestantesimo è stato poi accettato anche dalla chiesa cattolica e dalle altre confessioni mentre però ha prodotto anche una scoria in questo caso grazie Rutero come cattolici è vero però poi questo processo ha prodotto una scoria cancerogena per la chiesa che è il fondamentalismo biblico per il quale si stenta ancora a trovare una cura efficace la cura efficace giustamente sarebbe come suggerisse giustamente Vittorio Secco una corretta formazione dei pastori però non è sempre facile da attuare insomma che dipende proprio molto anche da diciamo da da qual è diciamo la tendenza dominante nelle varie nelle varie comunità perché per esempio io vedo insomma molti commenti mi vengono vabbè ma comunque in generale quando affrontiamo anche tu sai benissimo il problema qual è e si vede che esiste sicuramente una fioritura di nuove esperienze cristiane non cattoliche anche in Italia che però spesso accompagnata da una una rifioritura purtroppo preoccupante di questo atteggiamento molto molto irrazionale perché appunto si presuppone che la Bibbia cioè perché la loro forza è la semplicità del messaggio no cioè la Bibbia è questa sta scritto qui leggi qui e stai a posto cioè diventa un manuale di istruzioni per la salvezza è un po' come quando i testimoni di Geova hanno scritto il loro catechismo sia almeno quello che usavano quando me ne occupavo io non so se nel frattempo è cambiato no la conoscenza che conduce la vita eterna no cioè dove emerge proprio questa idea cioè la Bibbia è un libretto delle istruzioni per guadagnarsi la vita la vita la vita eterna in un mondo paradisiaco cioè finché tu ti attieni alle istruzioni no e se ti viene un dubbio è Satana che ti tenta e quindi tu devi tornare alle istruzioni no è ovvio che tutto è molto semplice no è molto confortante da un punto di vista psicologico questo tant'è vero che poi diventa una forma di dipendenza poi come spesso succede come tutte come tutti come tutti diciamo gli espedienti che noi che noi utilizziamo no per mantenersi nella nostra zona di confort psicologico io ho l'impressione che anche in alcuni movimenti cattolici si tenda a far questo purtroppo lo dicevamo prima lo dicevamo prima lo dicevamo prima Sabatino Mazziotti dice che ci sia un'ignoranza biblica e non è allunque che ci sia una ignoranza biblica e non solo è pacifico ed è la vera ragione del successo dei cosiddetti studiosi biblici vabbè è una constatazione credo che sia sì probabilmente si riferisce allo studioso al professore di cui di qui sopra no quello che propone proprio l'archiostronautica biblica insomma Roberto fa un'osservazione pastorale perché il magistero della chiesa nell'interpretazione delle letture non privilegia nella liturgia una lettura accessibile come nelle omelie lunghe o erudite o astenersi l'omelia nei giorni feriali non ho capito bene Roberto come fai magari fai i commenti incisivi che se no non capisco le lettere paoline sempre meriterebbero un'omelia a parte allora cerco di interpretare quello che ha scritto Roberto penso che ho capito cioè che forse nella da parte della chiesa intesa insomma come conferenze episcopali come parrocchia come ci dovrebbe essere più attenzione alla formazione biblica ma questo deve essere fatto prima dell'omelia perché la soglia d'attenzione del fedele media all'omelia sono sette minuti e mezzo dopodiché già si perdono così tanto così tanto per cui l'omelia deve essere il più possibile a meno che cioè a meno che non sembra vabbè poi ci sono ovviamente dei predicatori molto bravi che riescono a fare delle mie umidie coinvolgenti però siccome il signore distribuisce i suoi i suoi carismi in modo diseguale non tutti i sacerdoti poi sono degli oratori fantastici che riescono a fare umidie coinvolgenti ci sono alcuni che ci provano e provocano solo l'addormentamento della platea dei fedeli cioè oppure ci sono alcuni che scambiano l'umidie per delle lezioni universitarie spesso spesso appunto i biblisti tendono a scambiare le umidie come delle lezioni universitarie fanno un'umidia di 35 minuti in cui esprimono concetti che magari io sto lì ad ascoltarli e li seguo e la vecchietta che sta davanti a me nel frattempo che ne so se recita il rosario perché non ci capisce assolutamente niente di quello che dice no? Daniele dice se posso portare la mia esperienza del cammino neocatecumenale posso dire che c'è anche il problema del tempo da dedicare alla formazione di nuovi evangelizzatori il problema della formazione torna comunque il problema della formazione e no si appunto perché tu metti in una posizione di catechista non era non era non era casuale persone che non hanno una formazione adeguata per cui poi questi poi si tirano dietro tutto il gruppo di cui sono responsabili che poi vanno a vivere la scrittura sì ma in un modo non corretto non così come la chiesa insegna che la scrittura deve essere deve essere vissuta sì perché insomma diciamo che il problema è il fatto che comunque lo studio della storico critico narrativo insomma richiede una strumentazione che ripropone il problema della della mediazione questo diciamo un po' il discorso quello che facevamo prima quindi credo che bisognerebbe anche con pazienza fare un lavoro di divulgazione culturale cioè oggi non possiamo più permetterci di essere cristiani ignoranti o di serie B insomma è anche vero però che a me capitò per esempio una volta mentre io sono stato per tanti anni lo sono ancora anche se adesso diciamo molto meno attivo rispetto ad un tempo da un membro del gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa per cui mi capitò una volta che un testimone di Geova per esempio disse al parroco di una chiesa eh ma io tra i testimoni di Geova ho imparato ho imparato a leggere la Bibbia i testimoni di Geova mi hanno fatto leggere la Bibbia dice voi in chiesa in chiesa queste cose non le fate loro in chiesa c'erano ben tre corsi biblici a cui non ci andava nessuno no? per cui alle volte si creano queste situazioni paradossali poi tu magari la parrocchia si attrezza trova persone qualificate organizzi corsi biblici e poi al corso biblico non ci va nessuno no? succede anche questo purtroppo no? e in quella situazione è successo questo questo accusava il parroco appunto di essere di don di essere disinteressato alla formazione biblica dei fedeli che gli erano stati affidati quando invece sto poveraccio nella sua parrocchia aveva ben tre corsi biblici a settimana a cui tra parentesi partecipavano pochissimi dei suoi fedeli quindi insomma c'è sempre chiamate la neuro che fa un'osservazione cioè diciamo che non tutti sono portati per la formazione in senso formale cioè una formazione vera e propria scientifica forse potremmo pensare un'educazione più informale che è un po' quello che cerco di fare io cioè divulgazione di cultura religiosa e quindi divulgazione anche di cultura esegedi cioè divulgazione vuol dire mettere diciamo a disposizione di tutti almeno le basi in un certo modo di accostarsi alla scrittura diciamo un po' questo che ne pensi Adriano? No ma questo è fondamentale nel senso è ovvio che non è che tutti cioè nel senso non è che tutti possono dedicarsi a degli studi degli studi approfonditi scientifici per cui la divulgazione in questo ambito è fondamentale è una divulgazione che deve essere appunto fatta affrontata a vari livelli a livello base a livello intervedio a livello alto varia anche anche una stratificazione perché è ovvio che tu a una vecchina di 80 anni non è che gli puoi insegnare l'ebraico dice vieni e insegnargli a fare esegesi biblica cioè ovviamente devi devi adattare anche il tipo di divulgazione al tipo di uditorio no? si fa si può fare tu la fai e io te l'ho sempre detto non te lo dico per piageria in questo momento tu fai dell'ottima divulgazione perché che è una divulgazione che si presta ad essere fruita da varie tipologie di persone cioè quindi è una divulgazione di buon livello ma anche però affrontata con un linguaggio comprensibile e tu mi insegni che ciò nonostante sei il bersaglio di molti di molte di molte critiche da chi da chi invece preferisce un tipo di approccio alla bibbia ma la fede in generale di altro tipo no? però ovviamente poi non è che se può ovviamente non puoi cioè non potrai mai mettere d'accordo tutti cioè tu puoi dire la cosa più sensata dell'universo e ci sarà sempre qualcuno che dice che sbagli e che c'ha ragione lui insomma c'è Ticiana che sta facendo diversi commenti che io sto seguendo sto cercando di comprendere non è semplicissimo però qui dice gli errori non sono nella bibbia ma nella sicurezza del nostro presumere di sapere cosa è la realtà perché non sappiamo proprio non conosciamo proprio la realtà quindi non siamo in grado di dire che la bibbia sbaglia vedo intuisco un certo scetticismo appunto anticientifico che tra l'altro è un problema di moda voglio dire oggi lo scetticismo antiscientifico non si riflette soltanto nel fondamentalismo insomma ma si rvette in generale insomma terapiatismo cioè appunto che alla fine la scienza non ci dice nulla non sappiamo nulla però questo vuol dire cioè vuol dire proprio radere al suolo tutto il progresso la civiltà occidentale la civiltà occidentale che insomma mi sembra diciamo che a un certo punto però poi queste cose tu me le dici utilizzando un computer quindi la scienza funziona perché se non ci fosse la scienza la fisica quantistica anche in base in base ai calcoli della fisica quantistica che fanno funzionare i processori del tuo computer tu adesso non potresti essere connesso quindi per carità cioè la scienza qualche cosa ce la dice Adriano che gli dice a Luca è corretto il fatto che quando si parla che i bambini devo dire che Adamedeva sono simbolici in realtà non solo cioè nel senso il problema è che il racconto è simbolico però il catechismo della chiesa cattolica ci dice che in realtà però ci racconta un fatto reale in termini simbolici però qui interviene la fede cioè capito a questo punto interviene la fede che dice vabbè al di là capito del simbolo c'è una realtà dire simbolo cioè si confonde il simbolo con un'indicazione puramente astratta invece il simbolo il mito parlano della realtà parlano di una verità sono un modo diverso di dire la verità cioè che so il mito fonda la realtà e lo fa attraverso simboli no? quindi Adamo e Deva diciamo non sono non sono simboli Adamo e Deva è simbolico il racconto in cui loro compaiono e quindi anche le azioni che compiono nel racconto sono simboli attraverso i quali si vuole intendere una realtà un fatto reale che è la caduta ovviamente poi per la fede cristiana c'è la caduta originaria che è un fatto reale poi ovviamente poi ci sono varie interpretazioni a livello teologico che si possono dare a questo concetto però lì poi dopo si va verso un tipo di teologia molto più sofisticato al bambino gli devi dire che appunto questo ovviamente qui siamo in un'ottica di fede quindi gli devi dire che appunto questo qui il racconto ci trasmette un fatto reale ma lo fa attraverso una bella favola però ci dice una verità però ci dice una verità però non è che effettivamente c'era l'albero e se sono mangiato il frutto e l'albero c'era il serpente che parlava questi sono singoli non si dicono anche se non è vero che a Pinocchio gli cresce per nato insomma Adriano credo che magari che dici per oggi va bene così volevi fare ancora un po' di pubblicità spudorata al tuo libro già che ci stai aspetta casualmente ce l'ho qui se volete un po' di divulgazione però diciamo di livello medio alto non proprio basilare io ho pubblicato questo volume ho sparito lo sfondo virtuale la realtà si manifesta quando tu mostri il tuo libro si manifesta la realtà e vedi si dissipano tutte le apparenze però guarda come conclusione visto che credo che tu 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 come sempre per far pubblicità il tuo libro qui Sabatino Mazziotti diciamo ti alza la palla e tu la puoi schiacciare le differenze nei dettagli dei Vangeli sono un segno di veridicità perché chi vuole inventare si mette d'accordo semmai la differenza nei dettagli dei resoconti sono un segno di veracità questo credo che sia un problema che tu affronti quello della differenza nel racconto dei testi spesso io so che uno dei criteri di storicità è proprio la discordanza giusto corretto beh non esattiva nel senso più che altro sono i particolari imbarazzanti nel senso che però diciamo questo testimonia più che perché la buona fede di chi quei testi ha selezionato perché li ha selezionati nonostante ci fossero delle differenze perché per lui quelle differenze non erano importanti quello che ci insegna appunto le differenze dai Vangeli ci insegnano ci insegnano nei dettagli nei dettagli ci insegnano proprio che i dettagli non sono importanti perché il fatto che la Chiesa stessa abbia selezionato quattro testi che nei dettagli a volte non spessissimo a volte si contraddicono significa che quello che conta di quei testi non sono i dettagli quindi poi quando tu vai a fare un'indagine storica devi tenerne conto e quindi poi muoverti liberamente come storico all'interno di quei testi che poi appunto lo storico scopre attraverso un metodo che con la fede che viene appunto seguito mettendo tra parentesi per chi ce l'ha la propria fede però appunto seguendo questo metodo noi scopriamo che nelle sue linee generali il racconto evangelico viene confermato dalla ricerca storica per cui noi sappiamo che oggettivamente i quattro Vangeli canonici ci restituiscono molti moltissimi elementi che sono storicamente fondati sulla figura di Gesù e quindi che appunto la rivelazione cristiana c'è anche un fondamento storico non indifferente insomma che poi appunto che non è cioè che nel dettato evangelico non è non è esatto fino nel minimo dettaglio ma che appunto nel suo nucleo essenziale per quello che conta davvero per la fede invece viene confermato in linea di massima dalla ricerca storica e questo lo scopre diciamo lo storico lo scopre involontariamente perché lo storico si muove autonomamente però poi alla fine scopre questo io nel libro appunto spiego questo spiego che appunto ci sono dei dettagli cioè il Gesù storico così come emerge dalla ricerca storica in linea di massima conferma i tratti fondamentali della figura tu fai pubblicità e faccio la faccio anch'io al corso che stiamo facendo per gli abbonati stiamo leggendo Genesi questo periodo stiamo leggendo i primi undici capitoli quindi insomma se volete aggiornarvi un po' su questi argomenti su come appunto leggere interpretare la Bibbia e il significato insomma dei primi capitoli della scrittura insomma sappiate che se ne parla nel canale Bella Prof nella parte appunto riservata agli abbonati tenete presente comunque che ogni tanto sto facendo uscire dei video di sintesi che stanno anche avendo molto successo in cui tratto comunque gli stessi argomenti quindi anche se non vi abbonate seguite Bella Prof mettetevi piace iscrivetevi insomma che comunque qualcosa c'è il rischio che imparate tra l'altro lo imparo anch'io perché non c'è modo migliore di imparare e studiare che insegnare qua appunto si dice normalmente no diciamo comunque poi l'abbonamento non è caro quindi potete fare grazie per la pubblicità non è caro e poi appunto è vero cioè è vero dalle volte uno scrive i libri cioè io per esempio i libri li scrivo per chiarire le cose a me prima di tutto no 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 ma anche per me rimettermi diciamo a leggere a commentare la Bibbia è il modo migliore insomma per imparare Paolo Tabacchetti ti chiede uscirà una versione elettronica del libro? chiede prima o poi sì non immediatamente dobbiamo finire almeno la prima tiratura diciamo della versione a stampa per ovvie ragioni che poi ti spiego privatamente beh no ma le capisco perché le conosco anche abbastanza bene allora direi che per oggi possiamo concludere qui se volete continuare questa discussione ovviamente fate domande perché so che Adriano legge i vostri commenti quindi può anche rispondere ogni tanto risponde va bene però non la mettete sul personale cioè invarabbiate con noi ecco argomentate se non siete d'accordo discutiamo civilmente insomma non non arrabbiatevi troppo dai insomma lo dico tutti gli amici fondamentalisti in questo momento ci stanno guardando sì che poi all'inizio è una cosa che non abbiamo detto che oggi fondamentalismo viene viene inteso come un termine spregiativo invece nella sua origine era inteso invece come un termine positivo un recupero dei fondamenti esatto come un recupero dei fondamenti della fede cristiana della fede evangelica perché in effetti il termine ancora più spregiativo diciamo spregiativo o negativo potrebbe essere integralismo che ha diciamo una un'accezione un'accezione ancora più ampia diciamo va oltre i confini cristiani insomma l'integralismo vabbè d'accordo allora bello a tutti da me e da Adriano alla prossima arrivederci a presto ciao 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 grazie per essere stati con noi ciao